Cari lettori e lettrici, la novità letteraria che sto per presentare è un romanzo di narrativa contemporanea, una splendida fotografia di due donne forti, costrette ad affrontare insieme un tragico evento. Il romanzo cattura la vita quotidiana in modo autentico, in particolare l'esplorazione delle relazioni familiari, mostrando come anche i cambiamenti apparentemente piccoli possono scatenare reazioni inaspettate e portare alla luce segreti e desideri repressi. Questa rappresentazione realistica rende il libro ancora più coinvolgente. La trama del libro, Fina alla fine, della scrittrice Elga Flatland, pubblicato dalla casa editrice Fazzi, è la seguente. Sigrid, dottoressa quarantenne, vive a Oslo, con i figli e il secondo marito. Insieme al quale abbandonate il paesino di campagna dove è cresciuta, lasciandosi alle spalle un carico di ricordi difficili da sostenere. La nuova serenità che ha conquistato è però solo apparente. Sigrid è infatti segretamente gelosa del rapporto che la feglia maggiore sta instaurando con il padre, il suo primo marito ricomparso da poco e forse mai dimenticato. E poi c'è la madre, Anne, ormai quasi settantenne, fiera e indipendente. Il rapporto con lei è atteso, lo è sempre stato. Sigrid sta ancora aspettando che l'anziana donna faccia ammenda per aver trascurato lei e suo fratello fin dalla tenera età, dedicando tutte le sue attenzioni al marito invalido. Sono trascorsi decenni, ma il tempo non ha allenito il dolore. Le due donne sono entrambe troppo prese da se stesse e una riconciliazione vera e propria non c'è mai stata. Quando ad Anne viene diagnosticata una malattia terminale, Sigrid deve riconsiderare ogni cosa. La vita della madre sta precipitando verso una fine inaspettata e prematura e la delicatezza del momento fa sì che tutti i problemi mai risolti, soltanto taciuti, tutti i silenzi forzati e le ricriminazioni tornino a farsi sentire prepotentemente, con intuito tagliente, profonda empatia e una precisione millimetrica nel cogliere le rimammiche relazionali. Flatland ritrae il dramma e la poesia della vita ordinaria e ci mostra come un singolo cambiamento per far emergere e desiderire pressi e vecchi segreti in ogni famiglia. Grazie per l'attenzione e buona lettura. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensi della trama del libro presentato. Se hai voglia di condividere il tuo pensiero, lasciami un messaggio. Celebra la magia della lettura condividendo questo video e aiutami per favore a diffondere l'amore per i libri. A te non costa nulla, per me sarebbe un bel gesto di gratitudine. Ricorda, ogni piccolo gesto può fare la differenza. Per non perdere le novità letterarie, iscriviti al canale.